Qui ci troviamo di fronte all'utilizzo delle più avanzate tecnologie, delle più moderne tecnologie in un piccolissimo comune, remoto e quindi il valore sta proprio nell'utilizzare le ultime tecnologie in una comunità che, come dicevo, altrimenti sarebbe stata esclusa e emarginata da questa società e invece la capacità dimostrata dal sindaco proprio nel cogliere questa opportunità fa fare un balzo avanti e quindi San Benedetto, Belbo diventerà un punto di riferimento, un esempio per tanti altri comuni piccoli e remoti che abbiamo in Italia perché attraverso la tecnologia possono migliorare la loro qualità di vita, alla qualità di vita della propria comunità. Complimenti a questa iniziativa che guarderò con grande interesse per il futuro e mi piacerà vedere i progressi che in mano si faranno nell'utilizzo di queste tecnologie. Arrivederci.